Per migliorare la nostra città stiamo cercando di attivare tutte le risorse disponibili, quindi anche quelle europee. Vogliamo partecipare ad un bando per delle azioni innovative per la nostra città. Vi chiedo di votare per il tema dei migranti e rifugiati, perché se miglioriamo la loro accoglienza, miglioriamo le condizioni di vita di tutti i cittadini, italiani e stranieri che vivono nella nostra città. Potete farlo entro il 23 febbraio.